Assessore del Tenno, anche oggi qui in Regione Lombardia si è parlato dei pedaggi autostradali. Sì, è evidente quello che è successo. Abbiamo fatto sapere al Governo, al Ministro, che così la Regione Lombardia non può più andare avanti. È vero che ci sono stati dei grossi investimenti da parte del Governo, ma questo non giustifica questo aumento, soprattutto in Lombardia. In sintesi, non possiamo raccogliere i soldi in Lombardia per pagare le altre autostrade. Voi sapete che ci sono delle autostrade, mi viene in mente l'accordo anulare di Roma, che addirittura non pagano. Io credo che maggiore equità in Italia sui costi autostradali, credo ormai sia una necessità. Immagino che qui in Regione Lombardia siete tutti d'accordo, ma Lupi cosa dice e da Roma cosa dicono? Il Ministro ha assolutamente capito quello che è successo, quello che sta succedendo, ma anche lui ha grosse difficoltà normative. È una legge tracciata ormai tantissimi anni fa, con dei vincoli quasi tutti a favore delle società, e che porre rimedio nell'immediato non è semplice. Ma il lavoro che sta facendo il Ministro è nella direzione giusta. Noi lo stiamo affiancando e siamo convinti che arriveremo non in tempi brevi, ma abbiamo tempo un anno. Arriveremo certamente all'appuntamento pronti e preparati per evitare quello che è successo nei giorni scorsi. Parlando di infrastrutture, dopo un anno di lavoro, qual è il suo bilancio? Quasi un anno di lavoro. Il bilancio è assolutamente molto positivo. Voi sapete che le infrastrutture, dal momento che si progettano e si realizzano, passano diversi anni. Noi siamo riusciti, innanzitutto, non solo a consolidare, ma a ultimare alcune infrastrutture, come l'ultimo closing finanziario della Tema, ma non è solo questo. Quest'anno sarà l'anno delle inaugurazioni, i problemi, la prima parte di Piedemontana. Ovviamente stiamo lavorando per il futuro e a breve presenteremo anche un nuovo piano delle infrastrutture, e non solo stradali. Abbiamo intenzione di investire molto sulle infrastrutture ferroviarie. Quindi è una Lombardia innovativa, una Lombardia che si sta muovendo per essere e mantenere un'eccellenza non solo italiana.